a milano nel quartiere della bicocca oltre all'omonima università si trova il teatro degli arcimboldi quartiere università e teatro prendono il nome dalla bicocca degli arcimboldi una villa di campagna costruita da una famiglia nobile legata agli sforza conti e marchesi di arcisate e che diede quattro arcivescovi a milano un cugino alla lontana dagli arcivescovi ha dipinto questa allegoria dell'autunno si chiamava giuseppe e divenne pittore di corte di due imperatori e per il primo massimiliano secondo realizzò otto allegorie le stagioni di cui fa parte l'autunno e i quattro elementi naturali rappresentano il macrocosmo dello scorrere del tempo e il microcosmo fatto dagli elementi naturali la cui vita è modificata dalle stagioni rappresentate dagli animali che li abitano tranne il fuoco che consuma la vita e che porta come gioiello il collare del toson d'oro legato alla corona di spagna tenuta dagli asburgo e fatto con acciarini d'oro le stagioni sono didascali che presentano ognuno i propri frutti e per l'inverno la mancanza degli stessi l'autunno ha tutti gli elementi che abbiamo imparato a disegnare alle elementari come l'uva i funghi e la zucca l'arcimboldi lavorerà anche per rodolfo secondo l'altro imperatore per il quale realizzerà questo ritratto come vertummo il dio dei raccolti imperatore che a fine carriera ricompenserà il pittore renominandolo conte palatino